Punto numero 19. Ripristini ambientali con opere a verde, rimboschimenti, fasce tampone, pennelli fluviali. Il sistema idrografico, rogge, canali irrigui, scolmatori, lanche fluviali, rappresenta uno dei più importanti strumenti territoriali per la realizzazione della rete ecologica regionale, per consentire ad esempio le migrazioni dei pesci da monte a valle e viceversa nei periodi riproduttivi. I fiumi e i corsi d'acqua in generale hanno subito nel corso dell'ultimo secolo scorso una consistente riduzione delle aree goleenali, a fronte di processi di rettificazione e canalizzazione, con la perdita di aree naturali e abitati acquatici a favore di aree agricole. La costruzione di un argine in cemento significa impedire la connessione tra ambiente terrestre e ambiente acquatico, eliminando un filtro naturale per gli inquinanti, i riparli per la fauna e impedendo la divagazione nei casi di piena. Inoltre, sono state costruite numerose briglie per limitare la velocità della corrente, spesso però insuperabili per la fauna ittica. Le captazioni idriche, idroelettriche e irrigue tramite sbarramenti, comportano una riduzione della superficie bagnata, una riduzione della profondità dell'acqua e quindi una semplificazione dell'habitat, che significa minori possibilità di vita. La riduzione della quantità d'acqua provoca anche una minore capacità di diluizione degli inquinanti da parte del fiume e una maggiore vulnerabilità a inquinamenti di tipo termico. Ulteriori potenziali minacce per gli ecosistemi acquatici sono dati da inquinamenti di tipo organico e dall'utilizzo di fertilizzanti. Il problema è più evidente dove è assente una fascia tampone boscata, in grado di abbattere in parte le concentrazioni ed inquinanti dirette verso le acque correnti e di favorire un più alto grado di biodiversità. Da non dimenticare infine di impatti determinati dai lavori nell'alveo dei fiumi, in grado da un lato di abbassare il livello del fondo, con importanti conseguenze sull'alimentazione dei rami laterali e delle lanche fluviali, che possono così rischiare di rimanere in asciutta, e dall'altro di aumentare i solidi sospesi in acqua, con importanti conseguenze negative su macroinvertebrati, apparati respiratori dei pesci, sulle uova e sulla vegetazione sommersa. Il Parco del Serio provvede alla realizzazione di opere di riforestazione, fasce tampone boscate ai margini del fiume e al ripristino di zone umide. Questi interventi hanno lo scopo di incrementare gli habitat a disposizione della flora spontanea e della fauna selvatica, e di diminuire la frammentazione degli habitat già presenti, ma isolati tra loro o di piccola dimensione. La conservazione della biodiversità in ambito fluviale richiede in primo luogo il recupero della fascia di territorio più vicina al fiume. Inoltre, tramite il progetto speciale agricoltura e il progetto marchio, si ricercano sinergie che contribuiscono ad una gestione del territorio improntata alla conservazione attiva della diversità, offerta dalla presenza di elementi quali siepi e filari, boschetti, prati magri, fontanili e piccole zone incolte, in grado di incrementare le biodiversità. Lungo il corso del fiume sono stati realizzati alcuni interventi per ridurre i fenomeni erosivi sulle sponde, tramite coperture diffuse a salice, in grado da un lato di consolidare le sponde e dall'altro di creare nuovi habitat. Lungo il corso del fiume sono stati realizzati alcuni interventi per ridurre i fenomeni erosivi per ridurre i fenomeni erosivi per ridurre i fenomeni erosivi. Lungo il corso del fiume sono stati realizzati alcuni interventi per ridurre i fenomeni erosivi.